In attesa che cos'ha abbastanza? Le pappardelle sono pronte. Grazie. Che dici, Augusta? Va bene il menù caro? Buono, grazie, caro. Prego, amore. Giovanni! Pegno! Preparami il prosciutto magro e oliva nera per la principessa d'Aragona. Eccolo, che avevaso a preparare per quanto? No, i sei cinque oggi. Sono lo stesso, tanto quelli non mangiano. Ah, vabbè, vabbè. Giovanni! Quando? Fammi due braccioli di maiale in padella e ripassate col sugo. Ah, preparami due pappardelle al sugo dell'ebre. Abbondanti, ah, mi raccomando. Abbondanti, ma sono sempre quei due. Adesso d'ora, chi mangia e si soffoca adesso? Si strafogano. Che so' principe, siete dietro? Sì, principe e principesse. Buongiorno, principi. Tu sono della schina. Buongiorno, cara. Della schina, dice? Avete visto quei due? Si stanno mangiando tutto loro. Ci andrebbe la tua bella cucchiola delle faccioli? Buona. Che? Viate con un'altra salsiccia? Certo. Cameriere? Pegno. Cameriere? Anche a me salsiccia con fagioli. Anche a me, eh? Come due due? Come loro? Quattro salsiccia con fagioli. Anche a me, Polisi. Salsiccia? Salsiccia con fagioli. Che cos'è questa erba con i fagioli? Tiago, vedi un bicchiere vino rosso. Che ti fa sangue. Ti dà la sua pressione. Grazie. Bella. Giovanni, tre salsicce con fagioli. Quattro fagioli con salsicce. Sente salsicce con fagioli. Ciapa, questo è l'ultimo fasolo. Dele uccane che non che ne sa più. Fagioli, 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 fagioli. Ottime. L'idea di fagioli e salsiccia divina. Vede, principessa, noi c'avremmo tre ragazzi che sono meravigliosi. Sì, rimandiamo tutti all'università. Sono tre scienziati finossi. Sono alti, sani, belli. Se tu di a tavolo vostro, sono come voi, che siete siete principi ed industriali. Sì, lei esprime in modo semplicistico il concetto di omologazione tra i ceti e le classi nelle nuove generazioni. Hai sentito, Gu? Ho sentito. Brava. Solo che ste generazioni, perché loro si vergognano di noi, che siamo fruttaroli. Che siamo fruttaroli? Sì. Che cosa vuol dire fruttaroli? Che vi piace la frutta? Che ci piace? No, no, no. Noi la vendiamo la frutta. Noi la vendiamo? Sì, noi la vendiamo. Vabbè, ho capito. Scusi, signor Remo, cosa sto mangiando? E non lo vede? Cara principetta, stiamo a mangiare la papparelle del sugo dell'Ebre. È la fine del mondo. La fine del mondo. Le ordiniamo? Ecco, sei pronti? Ecco, sei papparelle. Papparelle, signor Remo. Ma non so, stupende. Papparelle, sì. Guarda, a quei due bisognerebbe fargli un monumento. Agù, stiamo a far mangiare tutti. Difficile. Un rumo, una papparella. Una idea fantastica. Grazie ai nostri proiettari. Io non farne branca. Anche a me? Un branca, grazie. Gli mortacci loro. La verità, Gu. E che siamo del figlio? Che sono tre criminali. Ci stanno sempre a criticare che mangiamo troppo. Beh. Ci vogliono far parlare l'inglese che non sappiamo manco l'italiano. E Pasquina? Che si vergogna pure il nome gli ha dato. Si fa chiamare Bici. Oh, ti immagini Bici? Se ce le desse adesso quello che ci siamo mangiato ci metto a digiuno per tre settimane. Che dici, Agusta? Ci facciamo un'altra mezza porcicina e pappardelle? Certo che ce le facciamo. C'è un altro per far dispetto a quei gran figli della migliotta. Una migliotta. Cameriere. Cameriere. Guardi, la mia signora vuole ordinare qualcosa. Un'altra tua pappardelle al suco di letri. Professore, io mica ci ho capito niente. Mi so' vomitato pure l'occhio, poi so' svenuto. Ma alla mia signora che avete fatto? La lavanda castrica? Sì, la lavanda castrica. Se salverà? Se salverò? Beh, questa volta ve salverete. Almeno male. Ma levate una curiosità. Ma che cazzo ve siete mangiato? Tutto. E' ristorante se siamo mangiati. E' una vendetta. E' una vendetta. Sì, sta buona. E' una vendetta. Sta buona, sta buona. Sta buona. Come te senti? Mi è rivenu la fame. No, porca mignotta, non te fa senti che te la rifano. Esprime in modo semplicistico il concetto di omologazione tra i ceti e le classi nelle nuove generazioni. Hai sentito qui? Ho sentito. Brava. Solo che queste generazioni, perché loro si vergognano di noi e siamo fruttaroli. Che siamo fruttaroli? Sì. Che cosa vuol dire fruttaroli? Che vi piace la frutta? Che ci piace? No, no. Noi la vendiamo la frutta. Noi la vendiamo? Sì, noi la vendiamo. Vabbè, ho capito. Scusi, signor Remo, cosa sta mangiando? E lo vedi? Cara principetta, stiamo a mangiare papparelle dei sugo dell'Ebre. È la fine del mondo. La fine del mondo. Le ordiniamo? Ecco, sei pronte? Ecco, sei papparelle. Bella. Giovanni, tre salsisse con fasioi, quattro fasioi con salsisse e sette salsisse con fasioi. Ciapa, questo è l'ultimo fasolo, te lo cani che non che ne sa più. Fasioi, fasioi, fasioi. Scorrisi, fasioi. L'idea di fagioli e salsiccio, divina. Vede, principessa, noi c'avemmo tre ragazzi che sono meravigliati. Sì, rimandiamo tutti all'università. Sono tre scienziati i finossi. Sono alti, sani, belli. Siete tutti a tavolo vostro, sono come voi, che siete siete principi ed industriali. Sì, lei... In attesa che cociava... Le pappardelle sono pronte. Grazie. Che dici, Augusta? Va bene il menù caro? Buono, grazie, caro. Prego, amore. Giovanni! Vegno! Preparimi il prosciutto magro e oliva nera per la principessa d'Aragona. Eccolo, cosa cosa preparare per qua? No, i sei cinque oggi. Sono lo stesso, tanto quelli non mangiano. Ah, vabbè, vabbè. Giovanni! Comandi? Fammi due braccioli di maiale in padella e ripassate col sugo. Ah, preparami due pappardelle al sugo dell'ebre. Abbondanti, ah, mi raccomando. Ma sono sempre quei due. Pensa d'ora, chi mangia e si soffega adesso. Si strafogano. Che sono principe, si richiede. Sì, principe e principe. Pappardelle, signor. Buone. Ma per me le sono stupende. Pappardelle? Guarda, a quei due bisognerebbe fargli un monumento. Agù, siamo a papparmi a tutti. Pappardelle. Pappardelle. Rupo una pappardella. Una idea fantastica. Grazie ai nostri proiettari. E un ferno e branca, grazie. Anche a me un branca, grazie. Gli mortacci loro. La verità, cu. E che siamo del figo? Che sono tre criminali. Si stanno sempre a criticare che maniamo troppo. Beh. Ci vanno fanno parlare l'inglese, che non sapevo manco l'italiano. E Pasquina, che se vergogna pure il nome gli ha mutato. Chi ci pensi? Buongiorno, principe. Scusino della schina. Buongiorno, cara. Della schina, dice. Avete visto quei due? Si stanno mangiando tutto loro. Ci andrebbe un'altra bella cucchiata ai fagioli. Buona. Tiè, fiedevi un'altra salsiccia. Certo. Cameriere? Vengo. Cameriere? Anche a me salsiccia con fagioli. Anche a me. Come loro. Quattro salsiccia con fagioli. Anche a me, grazie. Salsiccia? Salsiccia con fagioli. Che cos'è questa erba con i fagioli? Tiago, vede un bicchiere di vino rosso. Che ti fa sangue? Ti dira su abresione. Grazie.